Sì Perfetto Dai via Bella bella Le parti squilibrate lì E' la tua mappa perchè si è squilibrato pure te Bravo bravo St'ha battuta la potevi risparmiare Comunque l'ha nato rotta la Ners Quindi sta mandando sulla sua mappa pure La torcia Bellissima Infatti io la volevo portare ma non l'ho detto di no perchè dopo Michele si incazzava Dice oh 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 torcia no Dopo ti facecamper Sto facendo un totem spento Ah ma questa c'è nessuna bega infatti la sentivo La sentivo Godere Mi sento vicina ma Madonna Mi sembra tutto è dire Basta Vabbè Dicendo dalle volte Dipendo che tanto ormai c'è un altro totem spento Ci diciamo di tutti No perchè nessuna bega un'idea permanente Ok Dunque io trovo il totem ma non lo posso ancora fare perchè la sento qui vicina Infatti ecco è tornato Eh comunque si trova all'esterno della 4x4 quindi Si trova all'esterno della 4x4 Si 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 attaccate ai muri Eh ma ha visto Eh ma ha visto Madonna Madonna Eh non potrei bloccarmi grazie no sono io quella Ah eh pensavo fossi Dwight quindi è di mia Non si fatta l'ho cambiato poco fa Vediamo se riesco a farlo io Mh i mille Ok Sto facendo la 4x4 geni Mh i mille Wow wow ... ... Ah fa io li sto dietro a sto a me e che ho le d'orchi Ah ma sono pure la sessione non me ne sono so... ... Mh i mille sia bella e praticamente quando c'è perché di solito mai con luce morente morto a porto luce morente che appare a te che se le stesse appare subito al inizio ma c'è il petto infatti infatti non le ho avvisati e mi hanno detto ma dovevi avvisarci ma guarda la bella è nato a come dire saputa manca brava anche mancante no ha cambiato la fessaccia di solda lo sai sto scappando ma dove non è che non che stai facendo dove sei ho detto ma mi ha lasciato sono dove c'è un pallet aspetta ma dovrà sono lontano dalla 4x4 intorno alla casa prana un indizio giusto sensato no c'è perché lontana 4x4 anch'io gruppo di mura gruppo di mura si deve fare il giro del perimetro che può dire che è l'unico gruppo di mura che ti sentiamo a fare molto chiaro vabbè rispetto a quella dove è stata atterrata rispetto alla sua testa davanti facciamo finta di aver capito dai fatemelo così dai ho capito capito ma non bello in ogni caso mi curo da solo ma ne era per curarti ma giusto per salvare con la torcia ma che cazzo fa no ma non ce l'ho io ce l'ho lasciata in terra no 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 l'ha lasciata perché voleva a me ma non mi ha trovato ah sei lì tu si si l'ha lasciata a sto punto si si tira lassù che è lontana per adesso sta tornando il sito della sua porta poi lo snipe ho capace di già nello spedale io devo cercare di pranzia sta inseguendo ancora la urla che mamma mia che azione stava fa fra ho fatto come un supereroe sono uscito dal buco e la stava accecando se l'accecava è un'azione dava paura cioè lei a terra la prende io cado giù dal buco ma la trovo di fronte e accecarla ma non ce l'ho uscito perché non ho gli addoni quindi la torcia dura 20 anni per essere accecata l'ha ferito però salva la tizia al fancule dai che dupal però ha salvato a me che infatti me che fosse la tua fai rituale sono premedio istitua quindi l'avrà detta quando può il gioco che ha votato a pensare che vocazione non ce l'abbia perché io mi sto curando vicino a lei eppure non mi non lo so infatti c'è la vocazione e infatti lo sapevo già c'è non ho lasciato perdere non ti ha visto proprio ma come gioca questo però una merda no ma la merda cagata a roti gen sopra vabbè mi sono messo dentro l'armadietto ma scopo di tanta brincata fai mi cura ah eh curami tu dai no tu sei arrivato con un sce l'ansia l'hai vista eh mi sa che arriva eh no aspetta oh ma c'è la faccia a curarmi però no è che volevo capire se c'è la vocazione no c'è la c'è la ah tu tu ancora devi capire ho detto che c'è la eh però sembra che a volte non ti voglio li pigliare no no mi piglia mi piglia cioè però è lei che non riesce a quelle discorse ah infatti con le me ah dai c'è duval però provo ad andare su a finire tu lo stai lupando nella casa giusto no in età pure all'esterno la stavo lupando e mo sono rientrata ovviamente forse lei mi sta cercando ma non sono felicitamente bella lì che bello io sono sopra ah mo mi posso curare meno male minca fra sono stato tu quasi due minuti senza curarmi assurda non potevo curarmi meno male non so che ma gioca un po' a cazzo cioè vanno da una parte e poi dall'altra sì sì stai tornando qua stai tornando qua ce lo so ma almeno vuoi fa un pochettino di punta io mi metto qui va rotto avrà il nodo sicuramente non mi ha visto sì no non mi ha visto sì forse adesso mi ha visto cazzo ha visto anche me vai gen cazzo cosa ho sentito no è che io ho fatto il giro mentre tu saltavi la finestra lei ti veniva dietro io ero lì dietro stupendo di nuovo qua no sarai tu no no eh non ce l'ho dietro è qui dentro ma no allora sta tornando qua sopra sì sì è lì ha colpito il gen si si riesce a prenderci io ho sbattuto il palet in faccialo ho sentito bellissimo questo qua è uno spasso nel senso occhio aiuto aia stavolta mi ha pigliato se la porto mattano forse ci sto dietro eh si la sto portando via ma ha visto me ha visto me sì no ma dai ma guarda che ha perso un sacco di tempo così lei eh ma si ha annoyed non è un problema lo recupera sì infatti se c'è annoyed sì ok ma lascia dopo l'altra uscita che liscio madonna dove è l'uscita aperta dove aspetta ti sento ma non cioè sento il kill ma non ti vedo a te no vabbè comunque no non l'ha usato non ce l'ha perché non riesce a pigliarmi no ok non è che non riesce a pigliarmi che aspetta aspetta qualche vittima io tanto mi posso tirar su bella dove sta l'uscita eh dietro di te ah mi ha preso ah ok lo sto io ma dietro cioè tanto lo vedi anche i cancelli lì tanto il borro fra me è un problema eh no quel tempo secondo me mi caldera eh ma è il borro da puttana però mi porta lontanissimo chi cazzo oh dio eh borro eh no tranquillo eh non riesce a correre minghia no eh ma ha preso easy proprio ma me non mi ha preso no buono ma a me mi ha preso easy proprio scurati e arriva ma dopo i due si sono usciti che bastardi ma veramente sì sì allora io te lo dico allora io te lo dico io ho the side quindi se riesci a farmarmi anche ho il the side quindi posso liberarmi fra l'uscita era la tua sin destra alla fine è anche tanto lontana lo so però il problema è che adesso come cazzo faccio a prenderti eh che ne so ci provi che ne so tanto il borro tu non ce l'hai quindi posso difenderti quando mi salvi no l'ho visto l'ho visto che culo ti fendo sì sì no 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 non ci credo lol l'ho divincolato non prenderà a me no no vuole mea vai via via vai via via non so rialzare mi stavo quasi sganciando oh mi ricordo più su uscita dove è farà non me la ricordo più eccola lol mi sono alzato se riesco ad uscire mi rambo è pure poco tempo cazzo pochissimo tempo chi sta dietro mhm devo farcela tu ce la fai io no ma no bra che partita ti ce la fai ti ce la fai ti ce la fai Grazie a tutti.